Contiene in sé tutti i sentire. Cerchio Firenze 77, attraverso Roberto Setti, la fonte preziosa, a cura di Luciana Campani Setti, Campis. Ora, siccome il processo della delimitazione non può trarre fuori da Dio la parte delimitata, perché niente può esistere da Dio disgiunto, e cioè oltre Dio, e questa è una conseguenza logica del concetto Dio assoluto. Ne deriva che il sentire assoluto, la coscienza assoluta, contiene in sé tutti i sentire, e per lo stesso principio il sentire più complesso contiene il più semplice. Vi parrà strano questo mio indugiare su Dio. Certo, parlando di Dio, più se ne parla e meno si è precisi. Per definirlo basterebbe dire l'essere è l'essere, o parlando della sua natura, dire Dio è uguale assoluto, perché tutto il resto, tutti gli altri aspetti, i suoi caratteri di infinito ed eterno, non sono che una conseguenza logica di questa affermazione, Dio uguale assoluto.